Bentornati, vediamo ora brevemente lo strumento selezione rettangolare. Questo strumento è richiamabile dalla vostra tastiera premendo il tasto M. Come dice il nome stesso, questo strumento serve a creare delle selezioni rettangolari o quadrate. Se cliccate e trascinate su un'immagine qualsiasi, vedrete comparire una selezione rettangolare che potete trascinare a vostro piacimento e selezionare l'area dell'immagine che vi interessa. Per realizzare una selezione quadrata è sufficiente premere shift prima o durante l'operazione. In questa maniera i due lati della nostra selezione saranno esattamente uguali. È importante a questo punto rilasciare il nostro mouse con ancora shift premuto perché altrimenti la selezione torna a essere rettangolare. Nel caso in cui noi volessimo far partire la nostra selezione dal centro del nostro clic è sufficiente tenere premuto il tasto alt e la nostra selezione partirà dal punto in cui abbiamo premuto e il suo angolo terminerà nel punto in cui lasciamo andare. Queste due operazioni possono anche essere sommate. È possibile premere alt e shift contemporaneamente. In questa maniera io avrò una selezione quadrata che parte dal punto in cui ho cliccato. Anche in questo caso è importante rilasciare il mouse con ancora i due pulsanti premuti. Una volta che abbiamo fatto la nostra selezione possiamo cliccare esternamente alla selezione e disattivarla se abbiamo sbagliato o se non ci serve più. Possiamo invece cliccare all'interno e trascinare se la vogliamo muovere senza modificarla. È possibile oltretutto fare clic col tasto destro nel centro della nostra selezione e selezionare trasforma selezione. In questa maniera è possibile modificare la nostra selezione. Una volta che abbiamo ottenuto il risultato desiderato è sufficiente premere invio per tornare a gestire liberamente la nostra selezione. Una volta che abbiamo eseguito una selezione possiamo tenere premuto il tasto shift e vedete comparire un più di fianco al cursore. In questa maniera qualunque selezione andiamo a fare verrà sommata alla selezione che abbiamo già fatto. Se invece vogliamo sottrarre è sufficiente che teniamo premuto il tasto alta opzione. Vedete comparire un meno di fianco al cursore. In questo modo qualunque cosa selezioniamo viene deselezionata. È importante ricordare che in qualunque momento non importa quante selezioni io abbia aperte posso disattivarle tutte cliccando in un punto neutro oppure premendo command d di deselezione. Spero che questo video vi sia stato utile. Cominciamo ad addentrarci nei meandri di questa meravigliosa applicazione e rimanete sintonizzati per saperne di più.